Salve a tutti ragazzi, io sono Diego Dabber21 e in questo nuovo video interpreterò un personaggio mitico di un grande capolavoro Walt Disney che quest'anno compie 50 anni. Di chi sto parlando? E' molto semplice, di Romeo e Romeo del Colosseo, del gatto Romeo, del mitico capolavoro Walt Disney del 1970, gli Aristogatti, buon cinquantesimo anniversario a questo grande film. Quindi, allora, ripeto quello che ripeto anche in altri video, no? Ovvero, di questo video possiedo soltanto la voce, a scassa di qui, facci soltanto la voce, possiedo, ok? Molto bene. Allora, se il video vi piace, iscrivetevi e non perdetevi le mie ultime attività di doppiaggio, di intervista a personaggi immaginari, diciamo. Allora, che devo dire? Farò del mio meglio perché è il dialetto di Roma, io lo so imitare. Comunque in un prossimo video potrebbe essere tipo mamma ho perso l'aereo, il Grinch, il cattore di Natale, il Topolino, qualcosa in tema visto che si avvicinano le feste sostanzialmente. Spero che il video vi piaccia, tutti fanno il doppio agio in cirbio e il ciao da Dio da Apero 21, perché il mio motto è, come ben sapete, DAB is the world. Elena, se stai guardando questo video, volevo dirti buon compleanno. Buona visione a tutti, si va a incominciare. Lo puoi di forte, che finale. Romeo, i tuoi amici sono proprio deliziosi. Mi piacciono tanto. Beh, sono un po' grezzi, se sa come modi, ma se sei nei impecciam, arrivano subito. Mamma, quando avevamo bisogno di te, sei arrivato subito. So io che c'ho avuto sta fortuna, pupa. Oh, grazie infinite per averci offerto la tua casa. Oh, voglio dire il tuo superattico. È molto bello. Oh, ma c'è piano, qui sei un milione popolare, non te l'ho scordato, che essa. Oh, no, 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 mi piace. Ecco, avrebbe soltanto una piccola rassettata e poi... Poi forse un po' di tocco femminile. Beh, se stai a fare domanda di assunzione, beh... Che bello, mammina lavorerà per il signor Romeo. Eh, io che tu assoluto avevo due zaffini. Beh, beh, un po' stantio come complimento, ne? Oh, no, niente affatto. Piacerebbe ad ogni gatta. Voglio dire, anche alla piccola minora. Già, tutti quei micetti, duchessa. Me piace, non lo sai? E non si sono affezionati a te. Eh, sì. E sai, ci hanno bisogno di qualcosa come un padre. Oh, Romeo, Romeo, sarebbe così bello. Caro, se solo potessi... Ma perché non puoi? Per via di madame, io non potrei mai lasciarli. Ma una madame è soltanto un essere umano. E voi siete solo dei micetti di casa. No, no, no. Noi siamo molto di più per lei. Mi dispiace, tesoro. Ma dobbiamo tornare a casa domani. Già. Beh, se lo dici tu sarà vero. Però mi mancherai tanto, Pupa. E i ragazzini. Mi mancheranno tanto pure loro. Beh, stavamo quasi per avere un padre. Già. Torniamocene a letto. Buonanotte, duchessa. Buonanotte, Romeo. E questo era il mio doppiaggio di Romeo degli Ristorati della Walt Disney del 1970. Buon cinquantesimo anniversario a questo grande capolavoro Walt Disney. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e non perdetevi le mie ultime attività, che potrebbero essere a tema, come già detto, visto che ci avviciniamo alle feste di Natale. A tutti i fan del doppiaggio, un ciri belliciao da Diego Dabber21. Dab is the world. Ci vediamo presto con tanti nuovi video. Questo video lo dedico a Elena De Giuseppe, una cara amica mia che oggi fa il compleanno. Elena, se mi stai guardando, se stai guardando questo video, tanti auguri a te, con tutto il cuore. Grazie. Grazie. Grazie.